Siamo alleati, abbiamo la stessa visione del mondo e continuiamo a lavorare e costruire insieme, come il ponte appena inaugurato sulla Mur, che unisce Blagoveshensk e Deheye. Ma sull'Ucraina devi trovare una soluzione diplomatica. Questo è il succo della telefonata di Xi Jinping a Vladimir Putin. Il capo cinese e quello russo si erano visti alle Olimpiadi Invernali di Pechino, alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina, e in questi mesi Pechino ha confermato più volte il sostegno a Mosca. Ma la guerra sta durando troppo anche per i cinesi, preoccupati soprattutto per i contraccolpi sull'economia globale, mentre i paesi occidentali promettono aiuti sostanziali e senza precedenti all'Ucraina, ha detto il segretario generale della NATO Stoltenberg alla riunione dei ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, dove l'americano Austin ha annunciato un'altra infornata di armi a Kiev per un miliardo di dollari. Siamo pronti a un conflitto lungo, ha dichiarato il segretario alla difesa americano. E in effetti, finché ci sono così tante armi e munizioni, la tregua resta un miraggio, anche perché le relazioni tra russi e americani sono al punto zero, dice il portavoce di Putin Peskov, che esclude un incontro tra il padrone del Cremlino e Biden. A complicare le cose, due ex soldati statunitensi, Alexander Druk e Andy Hoon, sono stati catturati dalle truppe russe durante una battaglia nei pressi di Kharkiv. Ma la battaglia infuria soprattutto nel Donbass. A Seviero Donetsk si combatte casa per casa. A Prokhovsk gli abitanti contemplano sconsolati le loro case, le loro cose, andate in frantumi per i missili e le bombe. Il martirio continua.